Il commissario vento non lo voglio, il commissario vento non lo voglio, il commissario vento, il commissario vento non lo voglio, il commissario vento non lo voglio, il commissario vento, il commissario vento non lo voglio, il commissario vento, il commissario vento, il commissario vento, Grazie a tutti. Lasciamo a vincere. È vero, questo è un sistema difficile da sconfiggere, perché come abbiamo detto userà contro di noi le menzogne, la diffamazione. È un sistema che coinvolge politici ma anche giornalisti e arriva con i suoi tentacoli anche in posti di potere molto importanti all'interno delle istituzioni. Ma non è possibile e non dobbiamo soprattutto avere paura. Noi non ce l'abbiamo e voi dovete essere accanto a noi tutti i giorni per combattere questo sistema. Vuole la mano, vuole la mano, vuole la mano.